Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un'opera che si rivolge principalmente alle giovani donne che affrontano varie sfide nella vita, come relazioni amorose fallite, pressioni lavorative o di studio, insicurezze legate all'aspetto fisico o difficoltà di comunicazione con la famiglia. Scritto da una psicologa e psicoterapeuta con una lunga esperienza nel campo, il libro si propone di ascoltare i problemi delle lettrici e offrire loro un senso di comprensione e riconoscimento. L'obiettivo principale del libro è quello di consentire alle giovani donne di mettere in parole ciò che potrebbe essere nascosto nella loro mente e che può essere difficile esprimere. La speranza dell'autrice è che le lettrici si sentano comprese attraverso la lettura di questo libro, trovando un senso di appartenenza e consolazione nella condivisione delle esperienze delle altre donne. La trama del libro Tu non mi capisci di Tara Porter, edito da Mondadori è la seguente. Che sia per una relazione andata male, per la pressione che subite nel lavoro o nello studio, per un corpo che non vi piace, per una famiglia che non vi capisce, questo libro ha come obiettivo quello di ascoltare i vostri problemi e farvi vivere l'esperienza di sentirvi comprese e riconosciute. Nella sua lunga carriera di psicologa e psicoterapeuta la dottoressa Tara Porter ha parlato con centinaia di ragazze. Tu non mi capisci è basato su quelle conversazioni, sulle storie di giovani donne, le loro speranze, paure, pensieri, sentimenti, comportamenti, fallimenti e trionfi. È un distillato di ciò che la dottoressa ha imparato ascoltandole e degli strumenti che ha dovuto adottare per aiutarle. Tu non mi capisci è una vera e propria guida di sopravvivenza per ragazze, una bussola per orientarsi nella vita, offre una cassetta degli attrezzi per sviluppare consapevolezza e sicurezza emotiva. In questo percorso di comprensione, Tara Porter fornisce degli strumenti che vi aiuteranno a capire voi stesse, a perdonarvi, a usare al meglio la libertà di cui disponete e a proteggere la vostra salute mentale. Spero che tu non mi capisci vi permetterà di mettere in parole qualcosa che sta nel buio della vostra mente e che faticate a esprimere. Spero che vi sentirete capite. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.